Si riparte nel segno della continuità. La nuova giunta comunale di Andrea Biancani, sindaco di Pesero, ricomincia nel solco dell'eredità di Matteo Ricci. Confermati otto assessori su nove, sebbene con qualche modifica di delega. L'unica novità è rappresentata da un ritorno, quello di Sara Mengucci che rientra in giunta dalla quale esce Enzo Belloni, che nel primo consiglio comunale di giovedì sarà proposto come presidente dell'Assise. Curiosità, sarà una giunta maggioranza femminile con cinque assessore e quattro assessori. Ho cercato di dare continuità, ho cercato di mantenere le deleghe degli assessori che avevano ritenuto, che avevano fatto un buon lavoro. Non sono per ripartire ogni volta da capo, perché ripartire da capo vuol dire comunque riacquisire competenze, vuol dire rallentare quella che è la capacità di riuscire a dare risposte ai cittadini e quindi per questo molti degli assessori sono stati riconfermati. La novità è la Sara Mengucci che rispetto all'ultima giunta comunale non ne faceva parte. Avevo detto che avrei voluto mettere insieme la delega ai quartieri, insieme alla delega alle manutenzioni, ho dato l'assessore della Dora sia ai quartieri che alle manutenzioni, ho mantenuto l'assessore Pozzi, la delega ai lavori pubblici perché sono oltre 150 milioni di euro i cantieri di opere pubbliche, ho cercato di dare una buona, di rafforzare il settore dell'ambiente, ci sono due nuove deleghe che non erano previste la volta precedente, che sono legate alla pesca e al mondo agricolo. Agricoltura Maria Rosa Conti che resta assessora all'ambiente, pesca alla Frenquellucci che resta assessora alle attività economiche e all'innovazione. Vimini rimane il vice sindaco con persecuzione del lavoro su cultura, turismo e rapporti internazionali. La delega al bilancio passa Pozzi con Nobili che si occuperà di urbanistica ed edilizia privata, continuità di competenze a istruzione e giovani per Camilla Murgia che prende anche la delega all'università, continuità di politiche sociali per Luca Pandolfi che si occuperà anche di politiche della casa e dell'attuazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Adesso partiremo con giovedì con il primo consiglio comunale per poi partire con l'analisi di quella che è la squadra comunale perché ritengo che anche da questo punto di vista dovremmo fare delle modifiche per cercare di rafforzarla e per far sì che anche la macchina comunale si senta coinvolta e quindi anche loro fanno parte della stessa squadra ma dovremmo cercare come dire di rafforzarla e di renderli più partecipi per ottenere tutti quei risultati che abbiamo dichiarato nel corso di questi due mesi di campagna elettorale. Una squadra che dovrebbe contemplare anche Marco Perugini con un confronto in corso fra il sindaco e il presidente del consiglio comunale uscente. Del consiglio comunale non farà parte Luca Pieri che tornerà presidente Aspes. Stefano Donini, primo degli eletti della lista Alfaro, entrerà invece nel CDA di Ami Adriabus. Presentata in conferenza anche la nuova presidente del municipio di Monte Ciccardo, Marica Pierucci. Rapporti con Monte Ciccardo che saranno una delle deleghe specifiche che manterrà lo stesso sindaco Biancani. La delega al municipio di Monte Ciccardo che vorrò seguire personalmente, mi sono ottenuto la delega alle grandi opere, cioè quelle opere che non sono di competenza di reata comunale come ad esempio il cantiere del nuovo ospedale, il cantiere di autostrada, i mosaici del Duomo, il tema del porto, come mi sono voluto tenere anche il personale perché ritengo che sia importante che il sindaco almeno in questa prima fase cerchi di confrontarsi e di portare avanti tutte quelle che sono considerate tematiche strategiche per la città.